Tutto succede davanti allo sguardo dell'occhio elettronico. Un pusher consegna una dose di eroina a un trentenne in via Gorizia, a Vicenza. Dietro la telecamera di sorveglianza però ci sono gli agenti della polizia locale che attivano la pattuglia antidegrado. Abbiamo visto tramite le telecamere che vi era stata questa consegna di dose di stupefacenti. La pattuglia antidegrado è intervenuta immediatamente, ha fermato il pusher, ovviamente ha visto anche che la mascherina non era così conforme, era un po' alzata rispetto al normale, lei l'hanno fatta togliere e hanno constatato che vi era delle dosi stupefacenti al suo interno. Il pusher fermato viene perquisito e trovato con 11 dosi di eroina per un totale di 1,72 grammi. Sorprendentemente il 25enne nigeriano nascondeva la droga dentro la mascherina, una sorta di imbottitura. Lei aveva utilizzato la propria mascherina, aveva costruito diciamo un sottofondo di questa mascherina inserendoci dentro 11 dose di eroina e quindi occultandola in modo attento e quindi cercando di eludere le indagini da parte degli agenti. Il giovane straniero viene trovato anche con una dose di marijuana da più di un grammo contenuta in una tasca dei pantaloni. Con sé aveva anche 370 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Noi operiamo a distanza con le pattuglie sul territorio e con gli operatori che continuano sempre a visionare le telecamere e quindi danno ordine alle pattuglie che sono operanti sulla città e riusciamo effettivamente a bloccare i pusher.